Buongiorno signore vorrei farle delle domande che cosa ne pensi dei giovani d'oggi? La 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 loro idee e il loro pensiero ovunque non me ne spieghi a me nel giovane d'oggi Ma non li trovo un po troppo spregiudicati, immorali, maleducati? Eh sì, un po' sì Che cosa proporrete per cambiare le cose? Eh cosa proporrei? Eh cosa potrei proporre? Eh non lo so Nelle scuole forse? Ecco, me, di stare più a vendere a scuola, di studiare di più E di non fare troppo quello che vanno la sera e che si chiudono per le strade non belle Ecco, questo Ai genitori non se ne può fare una colpa perché è il progresso che ci ha portati a questo Il benessere Cioè io proporrei un po' di meno vendemmi nostri Grazie 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 Grazie